Tre giorni dedicati allo sport e al mondo della pallavolo giovanile con la Fano International Volley Cup. Sono previste 1100 presenze da lunedì 27 a mercoledì 29 dicembre negli alberghi fanesi e non solo. Oltre 200 le partite in programma in 15 palazzetti di Fano, Pesaro, Senigallia, Lucrezia, Calcinelli, Monteporzo e San Costanzo. A scendere in campo ben 600 atleti dall'Under 13 all'Under 18 femminile e Under 15 e 17 maschile. La Coppa è organizzata dalla Virtus e il presidente Marco Mantile ha annunciato che le partite si svolgeranno a porte chiuse per limitare al massimo il rischio di eventuali contagi. Il tampone per i partecipanti sarà obbligatorio e anche la finale prevista a Salvador Allende sarà ad ingresso limitato per mantenere le giuste condizioni di sicurezza. Un torneo internazionale che ha proprio anche un valore di memoria perché è il secondo torneo dedicato a Benedetta Vitali, non solo un atleta della Virtus, ma una nostra concittadina della quale ogni volta conserviamo una memoria intima. Oltre questo voglio sottolineare il fatto che questo torneo è molto importante di carattere internazionale, coinvolge comunque 70 società, di cui 55 squadre. C'è una presenza di persone molto importante che appunto visiteranno la città, di atleti, di ragazzi. È importante da un punto di vista anche sportivo ed etico nel mondo dello sport perché questi ragazzi confrontandosi con altrettanti ragazzi, non della propria regione, non del proprio territorio, riusciranno poi a mescolare anche le loro capacità e sicuramente a crescere anche da un punto di vista sociale. Questi sono i valori che lo sport veicola e quelli che poi vogliamo transitare attraverso anche queste iniziative. Iniziative che mi piace sottolineare saranno controllatissime da un punto di vista sanitario perché la federazione ha concesso questa possibilità, ma salvaguardando innanzitutto la salute di tutte le persone che saranno all'interno, per cui ci sarà un doppio controllo sugli atleti nell'arco della stessa giornata e massima attenzione non abbassiamo di certo il controllo.